Sia azione a livello nazionale, per cui tutti i colori fanno riferimento, il blu e il verde, al simbolo di azione e ovviamente c'è il nome, ma soprattutto noi vogliamo che ci sia azione per quanto riguarda questa città, cioè bisogna essere innovativi, bisogna cercare il più possibile di portare persone nel nostro territorio, di migliorare i servizi per quanto riguarda i cittadini, la qualità della vita e soprattutto noi pensiamo che il comune debba essere il punto di riferimento per tutti, un comune non come quello di adesso che in qualche modo subisce le cose, ma un comune intraprendente, un comune che cerca di modificare le cose che non vanno, penso ai regolamenti comunali, penso al piano operativo e ai regolamenti urbanistici e soprattutto si debba far attore principale anche per quanto riguarda le varie istituzioni. Io ho fatto l'esempio per quanto riguarda la Sena Firenze che in questo momento ci sono un sacco di cantieri, capire ad esempio con l'ANAS perché ci sono così poche persone che ci lavorano, capire quali sono i tempi con cui è stato dato l'appalto e cercare sempre il più possibile di stimolare, questo credo sia l'obiettivo di qualsiasi amministratore, quello del fare del bene a tutti i cittadini senza guardare destra, sinistra, centro e soprattutto quello di essere il punto di riferimento per cittadini e imprese.